Ciao belli, bentornati sul punto di G, io sono il vostro G e buon Natale! Volevo informarvi di una cosa, dato che in questi giorni saremo tutti quanti a casa per vacanze, ecco, venite a fare un giro sul mio canale Viola, non ci saranno streaming di pomeriggio, bensì ci saranno di sera. Cosa faremo? Ragazzi, è vacanza, prendiamoci un po' di tempo per rilassarsi, giochiamo. Ci saranno un sacco di gameplay, un sacco di chiacchierate, un sacco di just chatting, non so, faremo giochi horror, giochi di gruppo, ovviamente videogiochi, ragazzi, noi giochi di gruppo ci mettiamo a gioco a tombola, voglio dire. Vi aspetto comunque sul mio canale Viola e volevo semplicemente ringraziarvi, ragazzi. Siamo quasi arrivati, siamo, credo, abbiamo superato 1800 iscritti quando questo video uscirà e il regalo più bello che potevate farmi, davvero, grazie mille, ancora auguri e ci vediamo sul mio canale Viola! Ciao!